Ciao ragazzi, io sono Pasqui, e vi presento Pasqui Super Magazine! È un fumetto per i ragazzi! Ora, compratelo subito in reticola! Vediamo se un buon uomo dice sì! Buon uomo! Un Pasqui Super Magazine! Mi dispiace, sono finiti! Oh, caspita! Avevo promesso mio figlio! Ahaha, ok, te lo prendo! Davvero? No! Ha detto che sono finiti! Hai ragione, 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 ragione! Compratelo subito in Pasqui Super Magazine!